Saluto a voi! Vincere! Avete ascoltato una voce ben più degna della mia? Ciò che la patria s'aspetta dopo l'altri. Tra poco, camerati, vi verranno affidate le brigne del paese. E Dio brigne perché questo paese ha bisogno della briglia, del morso e della frusta. Ordine, obbedienza, disciplina. Basta all'antistorica uguaglianza. Ma è chiaro il dire. Ma perché un ingegnere deve essere uguale a un muratore, madonna di un dio? Soltanto i coglioni sono uguali l'uno all'altro. Bravo! Perché se questa è la democrazia, sapete che vi Dio? Moschettieri, imbracciate il fucile! Artiglieri, innescate la miccia! Ingegneri, fuori i lamponi e sabotate le linee! Caimani! Pugnale fra i denti! E distruggiamola questa democrazia! Schiacciamolo! Questo nostro un fame! Evviva l'obbedienza! Evviva il comando! Evviva! Evviva! Ammarato! Hai parlato meglio di Benedetto e Ingruce! Avviva! Avviva! Grazie a tutti.